E' crisi profonda nel partito laburista britannico. Voto di sfiducia a valanga del gruppo parlamentare, 172 a 40 contro Jeremy Corbyn. Il leader venuto dalle file della sinistra radicale interna, eletto solo a settembre. Il voto è larghissimo ma non vincolante e Corbyn si è detto deciso a sfidare questo risultato, appellandosi agli iscritti a costo di certificare la spaccatura totale nella maggiore forza di opposizione britannica. A nemmeno una settimana dal referendum sulla Brexit e dalla bufera scatenatasi sul partito conservatore di governo con l'annuncio delle dimissioni di David Cameron.